Il peccato, il peccato, il peccato, il cuore di me, gloria a te, gloria a te, gloria a te, gloria a te, Cristo Padre, Cristo Signore. Il peccato, 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 il pecc Il mio tempo è riuscito, fanno la Pasqua al tempo e i miei uccelli. I discepoli invece, dove arrivarono il Comunato Gesù, le prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si inizi a tavola con i doni, mentre mangiavano i sette. I veritari di un'altra, uno di voi ingradiato. Ed essi, profondamente raffestati, cominciano con la sua comunità. Sono forse io, Signore. Ed egli rispose. Colui che ha messo con te la mano in piatto, è quello che li tradirà. Il figlio dell'uomo osservato, che sta scritto lì. Ma guai a quel uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tra lì. Meglio quello dell'uomo, se lo fosse mai male. Giù da il peggio dell'uomo, se lo fosse mai male. Ed ecco, sono forse io.